Dopo una giornata di scontri, la manifestazione indetta da diversi collettivi e associazioni di studenti e inquilini, oltre che da ADSL Cobas, si è svolta pacificamente tra Palazzo Moroni, sede del municipio padovano, e Palazzo del Boss, sede dell'università. 500 persone hanno partecipato a questa risposta d'insieme che ha puntato il dito sulla decisione di sgomberare quattro appartamenti dell'Ater in via delle Melette nel quartiere Palestro, occupati da tempo e in qualche caso da anni, come hanno raccontato gli stessi inquilini che ne rivendicano il possesso, sostenendo di aver fatto lavori di miglioramento e di aver utilizzato gli spazi in modo collettivo e con iniziative culturali che hanno animato il quartiere, e accusando l'Ater invece di voler speculare su questi immobili, vendendoli invece che destinandoli a chi ha bisogno. Molti anche gli interventi degli studenti dei collettivi che a loro volta denunciano come sia diventato quasi impossibile trovare un alloggio in città a prezzi non proibitivi. Un punto di vista totalmente diverso ovviamente da quello dei legittimi proprietari degli immobili sgomberati. Le tematiche quindi sono serie e reali, ma il clima insaurato ha fatto ritornare la città indietro di anni, in una situazione di contrapposizione che con il paese che vive una delle sue fasi più delicate fa temere che le prossime giornate saranno pesanti per tutti, tanto più che la pur pacifica manifestazione si è chiusa con due promesse. Ritorneremo all'Ater, hanno annunciato i manifestanti e torneremo anche ad occupare gli appartamenti di Via Melette.